Al Teatro del Lido di Ostia si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di scrittura Le parole per l'insegnante. La manifestazione è dedicata alla memoria di Imma Maurino, una docente del nostro territorio prematuramente scomparsa nel 2008. L'evento, giunto al decimo anno, ha gradualmente lasciato la sua natura locale, divenendo prima provinciale, poi regionale e da ormai quattro anni si rivolge a tutte le scuole pubbliche, primarie e secondarie inferiori nazionali. Ogni edizione si contraddistingue dalle precedenti attraverso un tema diverso. Quello di quest'anno è stato un millennio di intercultura nel libro, le mille e una notte. La giornata, dedicata alle premiazioni, è stata vissuta in maniera allegra e festosa da tante scolaresche. C'erano la primaria Mendola Guttuso, la Garrone, l'Acqua Rossa e l'Istituto Comprensivo Mar Rosso. Presenti in teatro molti esponenti del corpo docente, i genitori degli studenti e infine anche i parenti di Imma Maurino. La giuria, che era composta da scrittori, pittori e terapeuti dell'età evolutiva, ha premiato le scolaresche più meritevoli, tra cui sono spiccate, oltre a quelle locali, anche delle realtà provenienti dalle città di Napoli e Isernia.